Purtroppo in apertura ancora un incidente nel già drammatico consultivo di questi ultimi giorni un po' in tutta Italia di vittime della strada. Dobbiamo registrare un'altra vittima. Questa mattina intorno alle 7 i vigili del fuoco di Nereto sono intervenuti sulla strada provinciale 8 lungo la bonifica del Salinello nei pressi del comune di Sant'Omero a seguito di un impatto fra un camion con alla guida un autista di 46 anni e un'autovettura con a bordo il conducente un giovane rumeno di 22 anni. Secondo la ricostruzione dell'accaduto la macchina nei pressi di una curva si è scontrata frontalmente con il camion forse per l'asfalto reso viscido dalla pioggia. Il 22enne di origini rumene che risedeva a controguerra è deceduto mentre è rimasto in leso il camionista. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e la polizia stradale di Pineto per i necessari rilievi.